Buongiorno, benvenuti a tutti a questo nuovo TG Innovazione dedicato al digitale e all'e-tech. Con noi oggi Fabiana Marchini, capo della sostenibilità del gruppo San Pellegrino, che ringrazio per essere qui con noi oggi, tra le più grandi realtà nel campo del beverage in Italia e nel mondo, nel campo delle acque minerali e non solo. Sette, oggi si parla sempre più purtroppo di siccità, insomma l'acqua va sempre più razionata in Italia, una grande emergenza, forse la peggiore degli ultimi dieci anni. Qual è invece la situazione con le fonti minerali? Le acque minerali sono da sempre al centro ovviamente del nostro business. Per noi ovviamente è importantissimo prendercene cura e infatti da diversi anni abbiamo avviato delle pratiche di gestione della risorsa idrica estremamente virtuose. Consideri che nel 2021 abbiamo ridotto del 22% i consumi di acqua industriale, siamo riusciti a migliorare l'impronta idrica dei nostri prodotti, riducendo del 38% il consumo di acqua di processo, che è ora di 0,08 litri per ogni litro di acqua minerale imbottigliato, quindi un consumo veramente virtuosissimo e minimo. Ma a fronte di questo riteniamo che sia sempre più importante dare il nostro contributo positivo per tutelare il pianeta. Nel 2020 abbiamo certificato lo stabilimento di San Pellegrino Terme secondo lo standard internazionale dell'Alliance for Water Storeship, che è uno standard che certifica la virtuosa gestione della risorsa idrica. Siamo in un corso di certificazione dello stabilimento di acquapanna e entro il 2025 certificheremo tutti i nostri stabilimenti. Ma come gruppo San Pellegrino, che crediamo fortemente nell'importanza di seguire un modello di business che è improntato alla creazione di valore condiviso, che significa generare un impatto positivo per le comunità e la società e allo stesso tempo prenderci cura del pianeta, è fondamentale tutelare le risorse per le generazioni future. Per questo motivo abbiamo preso un importante impegno al 2025, per cui stiamo lavorando, sviluppando dei progetti che siano in grado al 2025 di generare un impatto positivo. Che cosa significa? Riuscire ad aiutare i territori dove operiamo a trattenere più acqua di quanto noi ne utilizziamo. Ok, in che modo concretamente? Sviluppando concretamente dei progetti che siano in grado di fatto di contrastare quello che è effettivamente un deterioramento idrologico che è in atto e che è conseguente essenzialmente al cambiamento climatico, alla maggior urbanizzazione, al maggior consumo che si fa di acqua e sprechi anche al cattivo stato delle infrastrutture. Queste sono le principali cause del deterioramento idrologico, ma noi al netto di essere sempre più virtuosi nella gestione della risorsa idrica vogliamo concretamente dare il nostro contributo positivo e generare un impatto. Senta, secondo Nomins, ma continua a crescere proprio il mercato delle acque minerali, nei primi cinque mesi le vendite nella GDO mettono segno più 6%, anche l'export sta andando molto bene. Quanto stanno pesando i consumi dei trasporti, insomma delle materie prime, della benzina? Beh, ovviamente la situazione inflattiva non c'è bisogno di raccontarla nel dettaglio onestamente, però è anche vero che attraverso una gestione virtuosa, attraverso tutta una serie di politiche che abbiamo implementato nel tempo, stiamo facendo fronte alla situazione contingente e ci impegniamo per costruire un percorso di crescita che sia sostenibile nel tempo. Consideri che nel 2021 abbiamo comunque investito 58 milioni di euro sulle nostre fabbriche, generando di fatto un valore anche per i territori dove operiamo, perché le nostre fabbriche molto spesso sono le realtà produttive più rilevanti in questi territori. Ricordiamo che l'acquapanna sgorga all'interno di una riserva incontaminata di 1300 ettari, quindi si valorizza chiaramente proprio l'ecosistema proprio anche industriale, diciamo così, di quest'area. Senta, quanto incide invece le acque funzionali, queste acque arricchite? Il mercato si è molto diversificato, il mercato delle acque e anche questo in termini proprio di sostenibilità è un elemento ulteriore? Beh, è un trend in crescita, la sana idratazione è un trend che si sta assolutamente consolidando, è un trend mondiale a tutti gli effetti e rappresenta comunque un driver di sviluppo della categoria. Nel nostro modello di business che è volto alla creazione di valore condiviso, tre sono le aree prioritarie su cui focalizziamo i nostri valori e le nostre pratiche di business, che sono la generazione di valore per le persone, per le comunità e il pianeta come accennavo prima. La creazione di valore per le persone passa anche tramite l'offerta di prodotti che garantiscono una corretta idratazione, fra cui anche le acque funzionali, con Levissima siamo leader nel segmento, con l'offerta appunto funzionale e attraverso anche tutta una serie di progetti come a Scuola d'Acqua volti a dare la corretta informazione su quelle che sono le principali pratiche da implementare per una corretta idratazione. Grazie a Fabiana Marchini per essere stata oggi con noi e grazie anche a voi per averci seguito. Alla prossima!